Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Sequestrato un camion pieno di sigarette e di contrabbando, denunciato anche un fanese Falzi di tensione e blackout, diversi quartieri ancora al buio Ladri di gasolio in azione a Carrara di Fano, circa 700 euro i danni causati ad un'azienda di autotrasporti Il Fano vince contro l'armi Ternina per 4 a 0 Buonasera e benvenuti a Occhio alla Notizia Apriamo questa edizione parlandovi dei danni e anche dei disagi causati dai blackout Che nelle scorse ore si sono verificati in molte zone di Fano Noi abbiamo in collegamento con la nostra troupe il nostro direttore Marco Ferri In una zona che ha ricevuto la corrente da pochissimo Quindi Marco siete stati forieri di buona sorte allora Marco mi senti? Non tanto, purtroppo ti devo smentire subito perché in effetti sì Mentre eravamo qui la corrente è tornata Poi in realtà è successo che è andata via proprio mentre iniziavamo il nostro collegamento E qui siamo a casa della famiglia Filippetti in Via degli Olivi a Finire di Fano Finire di Fano dove la corrente manca praticamente da ieri sera alle 19.30 circa Signora da quanto tempo è che siete senza elettricità? Dunque ieri sera è tornata fino alle 11.30 Dopo dopo non siamo andati a letto ma non so che ora si è spenta Però tutt'oggi siete sempre 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 socorrente È sempre sempre stato sempre socorrente Tanto, cosa puoi fare? Allora, la situazione è questa e ve la aggiorniamo È aggiornata alle 19.00 circa Diciamo allora che l'altra zona dove manca elettricità è Ronco San Baccio Tante le telefonate anche da quella zona. Altrove, anche se a Singhiozzo invece la corrente è tornata, la situazione sta tornando alla normalità. Molte sono state le chiamate anche ai vigili del fuoco di Fano per segnalare l'interruzione dell'energia elettrica nelle case, ma anche per avere informazioni. Anche perché chiamare Enel, penso in tanti lo abbiano fatto in queste ore, è un po' complicato. Il numero verde di Enel è un numero di segnalazioni guastiche, però ha un call center dietro e che spesso non dà informazioni. C'è il cosiddetto nastro registrato, però è impossibile parlare in effetti con un operatore. Dicevamo dei vigili del fuoco. I vigili del fuoco questa mattina sono intervenuti in una cabina elettrica in via della giustizia, una centralina, dalla quale usciva del fumo. Poi si è rilevato un intervento di poco conto. Purtroppo molte famiglie sono al freddo perché, come dicevamo, sono ormai tante ore che le caldaie sono spente e che quindi non vanno i termosifoni di casa. Quindi molte famiglie sono al freddo, famiglie anche dove ci sono bambini piccoli. In alcuni casi ci segnalavano anche l'impossibilità di qualcuno di cucinare perché mi dicevano che in qualche cucina, forse quelle più moderne, ci sono dei sistemi di elettrovalvole che servono per rendere più sicura la cucina e quindi impediscono la fuoriuscita di gas, che sono alimentate appunto con l'energia elettrica, senza la quale non si accende il gas. I telefoni della protezione civile di Fano, lo stesso, sono stati presi d'assalto. I piccoli generatori a disposizione della sede fanese sono stati già dati, ma erano pochi, quindi sono andati via subito. Sono stati piazzati laddove c'era bisogno. In tanti raccontano di aver visto anche dei lampi luminosi nei tralici. Pare che dipenda da una serie di cortocircuiti che impediscono al sistema automatico delle centraline di riattivarsi autonomamente. Io mi fermo qui. La situazione è aggiornata. Ve la diamo tra poco. So che è pronto un servizio riepilogativo realizzato da Simona Zonghetti. Io saluto la famiglia Filippetti. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Speriamo che torni presto. Io... Adesso è andata a letto. Allora, grazie, arrivederci. Noi ci trasferiamo, mentre vedete il servizio, ci trasferiamo in un'altra casa più avanti che dovrebbe andare con un generatore. Ci vediamo tra un attimo. Cali di tensione, sbalzi di corrente, blackout totali. Da ieri sera la cittadinanza è alle prese con continui disagi derivanti dall'assenza o dall'alternanza di corrente elettrica. Il maltempo delle scorse settimane, con forti raffiche di vento, continua quindi a creare problemi in diverse zone del territorio marchigiano, a partire dalle ore 20 di ieri sera, come è accaduto a Gimarra, in zona Poderino e in zona Mare, dove sono stati segnalati lampi di luce. Problemi anche a Carrara, a Borgaccio di Calcinelli, San Cesario, fino a Ponte Sasso, Mondolfo e a Senigaglia. Tante le famiglie rimaste al buio fino a questa sera, come in zona Tombaccia, in Sassonia, a Finile di Fanu e a Ronco San Baccio. Nessun problema invece a Tre Ponti e a Bellocchi. Gli sbalzi di tensione, che a quanto pare avrebbero ancora a che fare con la Salsedine, hanno fatto saltare diverse cabine. Scintille dai tralici dell'alta tensione, centinaia, le chiamate ai vigili del fuoco e all'Enel, al lavoro da giorni, per cercare di ripristinare il servizio. Alcuni interventi sono stati segnalati alla centralina della Paleotta e sui cavi del traliccio a Tigua, al parcheggio della Comet, dove i pompieri hanno delimitato l'area. Oltre a questo, diversi sono i sistemi d'allarme scattati. Si sono accese le spie rosse anche nelle centrali delle vigilanze private e delle forze dell'ordine. Ma erano solo false richieste d'aiuto, provocate dai ripetuti blackout. Bene, prima di proseguire con le altre notizie del telegiornale, ritorniamo ancora una volta in esterna da Marco Ferri, che si trova sempre al Fenile di Fano. A te la linea, Marco. Siamo qui all'esterno, in via degli Olivi, sempre a Fenile. La via è completamente al buio, come vedete, per un istante, come vi abbiamo detto poco fa, era ritornata e poi improvvisamente è andata via. Mentre andava in onda il servizio, siamo riusciti a collegarci, a metterci in contatto con la prefettura di Pesaro Urbino, la quale ci ha confermato che i tecnici dell'Enel, con diverse squadre, sono tuttora al lavoro, lo sono sempre state in tutte queste ore, giorno e notte, per cercare di ripristinare il servizio. La causa di questi blackout è la salsedine, questa salsedine che con il vento dei giorni scorsi si è depositata laddove solitamente non si deposita e quindi sta creando questi blackout, sta creando questi disagi alle centraline, ai cavi elettrici. e dobbiamo dirvi che la pioggia che sta accadendo in queste ultime ore dovrebbe dare una grossa mano ai tecnici che appunto stanno lavorando. Non sappiamo, non lo sanno nemmeno loro, quando potrebbe ritornare la corrente, quando potrebbe tornare tutto alla normalità. La voce elettronica di Enel Guasti nella zona di Ronco-Sambaccio dava le 23.45, ma non lo sappiamo. Entriamo, vedete intanto, vi facciamo vedere come si sono organizzati gli abitanti residenti, alcuni residenti qui di Via degli Olivi. C'è un rumore fortissimo che è quello di un generatore elettrico che sta alimentando non solo questa abitazione, non solo questa abitazione, ma anche un paio di abitazioni qua, anche quella della signora Anita che adesso andiamo a vedere, andiamo a trovare. È una signora che adesso con piacere vi presentiamo, se il nostro operatore Alessandro entra dentro sperando che tenga il segnale. Ecco, buonasera Anita. Allora, vedo che lei qua è fortunata perché le hanno attaccato la corrente con il generatore, perché i suoi vicini in realtà la corrente non ce l'hanno. No, non ce l'hanno. Quanto tempo è stata senza elettricità? Eh, da ieri sera. Ma lei vive sola in casa? Certo. Vogliamo dire ai nostri telespettatori quanti anni ha? 94. Avete capito signor, 94. 91. Sono nata l'11 aprile 21. Bene, allora noi ci fermiamo qui soltanto, intanto grazie Anita, complimenti per i 94 anni, complimenti per tutto. La situazione ve l'abbiamo raccontata, speriamo che vada tutto per il meglio che la corrente territoriale. La sola che ero, non sapevo più, non trovavo più niente perché la luce non c'era, avevo portato la candela, vado l'amica della candela dal comodino, non sapevo più. Non ha qualche nipote da far venire qua, no? Con lei magari può darle un... No, non ce l'ho. Bene, allora salutiamo Anita, salutiamo i nostri telespettatori ovviamente per tutte le informazioni occhialanotizia.it. La linea allo studio. Bene, grazie Marco per questo aggiornamento. Noi proseguiamo con la cronaca. La Guardia di Finanza ha sequestrato un carico di sigarette di contrabbanto di 550 chili che se immessi sul mercato avrebbero fruttato 320 mila euro. Guardiamo il servizio. È il sequestro più importante degli ultimi 25 anni in termini quantitativi eseguito dalle fiamme gialle nella provincia di Pesero e Urbino. Dopo un'attività di osservazione e controllo, la Guardia di Finanza di Fano ha sequestrato 546 chili di sigarette di contrabbando e denunciato due persone. In particolare, l'attenzione dei militari è stata attirata nella zona industriale da movimenti sospetti in prossimità di un capannone. È stato così che sono entrati nel deposito che peraltro risultava in stato di semiabbandono e privo di energia elettrica. Poi hanno perquisito un furgone custodito all'interno dei locali che, una volta aperto, ha mostrato il suo prezioso carico. Le sigarette avevano il marchio Jim, venduto generalmente nei paesi anglosassoni. L'intero carico, una volta emesso nel commercio illegale al dettaglio, avrebbe fruttato oltre 320 mila euro, sequestrato anche l'autocarro dal valore commerciale di circa 30 mila. I due responsabili, un fanese e un soggetto originario e residente nella provincia di Brindisi, rispettivamente locatario del capannone e utilizzatore del mezzo, sono stati denunciati per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri alla Procura della Repubblica al Tribunale di Pesaro. È stato ritrovato morto nel suo letto ieri sera a Pesaro Andrea Nava, 33 anni, figlio di un imprenditore del mobili della sorella del cantante Massimo Ranieri. A fare la scoperta è stato il padre che era passato a salutarlo. Stando al medico del 118, il primo a intervenire sul posto, il decesso risalirebbe ad almeno 10 ore prima del rinvenimento, cioè a ieri mattina. Sul corpo non ci sono segni di violenza e nell'appartamento non c'era traccia di droghe. La Procura ha disposto l'autopsia, mentre i carabinieri stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita dell'uomo. Un braconiere è stato sorpreso dagli agenti del corpo forestale nel parco regionale del San Bartolo a Pesaro mentre uccideva un cinghiale di 90 chili a colpi di carabina. Alla vista degli agenti l'uomo è scappato ed è tornato a casa, ma poco dopo, con l'aiuto di un poliziotto e di guardie volontarie, è stato rintracciato. È un macellaio di 66 anni, è stato denunciato a piede libero per aver ucciso l'animale all'interno di un'area protetta e per detenzione abusiva di munizioni. Un incidente autostradale questa mattina intorno alle ore 10.30 lungo la strada provinciale 80 all'altezza del ristorante L'Alberone. Una coppia di anziani, entrambi ultra settantenni e residenti a Perugia, è finita fuoristrada con l'auto. Una Suzuki Wagon R, probabilmente a causa dell'asfalto, reso scivoloso dalla pioggia. I due pensionati sono riusciti a uscire da soli dall'abitacolo, passando dal finestrino. Sul posto, i vigili del fuoco e la polizia municipale di Fano, che ha contattato l'ACI per la rimozione del mezzo. Nella notte trascorsa tra sabato e domenica, i ladri hanno portato via circa 500 litri di gasolio da il camion di una ditta di autotrasporti di Fano. Vediamo la dichiarazione del suo titolare. Tra sabato e domenica ho subito questo furto di gasolio da parte ovviamente di qualche delinquente che ha comunque preso di mira l'azienda, perché noi abbiamo qua solo il deposito dei mezzi che partono poi l'undi mattina. Per cui tra sabato e domenica sicuramente hanno preso dai serbatoi del gasolio abbiamo calcolato circa 500 litri di gasolio, quindi circa 700 euro di gasolio portati via in qualche ora. Probabilmente con delle cisterne, perché intorno è tutto recintato, non c'è niente di tagliato, perché questa mattina abbiamo fatto la denuncia e so che ci sono anche altri colleghi che hanno subito questi sfurti di gasolio che sono sempre più numerosi nella nostra provincia. Qua avete delle telecamere installate? In questa zona proprio no, infatti adesso ci stiamo predisponendo proprio per installarla perché a questo punto siamo costretti a metterle, va la pena tra virgolette visto che poi le cifre sono importanti. È la prima volta che accade? È la prima volta che ci siamo accorti, perché poi se ne portano via solo una parte è difficile poi fare i conti e verificare quanti litri mancano. Questa volta proprio hanno portato via un intero serbatoio da un mezzo ovviamente ci siamo accorti perché di mattina doveva essere piena invece era in rosso per cui probabilmente forse non è neanche la prima volta. Questo lo voglio dire anche a tanti altri colleghi che fanno questo mestiere, questo lavoro di autotransportatori che purtroppo girano questi malintenzionati di adeguarsi con telecamere e comunque di denunciare sempre i carabinieri perché hanno informazioni per poter poi perseguire queste persone. E siamo alla politica anche nella terza ed ultima consultazione della base PD il candidato alle prossime regionali Renato e Claudio Minardi ha ottenuto il pieno dei consensi. La decisione è stata presa dagli iscritti che nelle varie assemblee della settimana scorsa hanno scelto l'attuale presidente del Consiglio Comunale di Fano. Dietro Minardi che ha totalizzato 145 voti si sono piazzati Rosetta Fulvi con 62, consensi e Federico Perini con 49. Subito dopo Daniela Dagata che ne ha totalizzati 25 e infine Cesare Carnalori con 16 voti. L'ultima parola sulla candidatura ora spetta alla Federazione Pesarese. Una parte del ricavato dei mercatini di Natale, la Proloco di Monbaroccio in accordo con le associazioni partecipanti ha acquistato e donato due carelli roll container alla casa di riposo Beato Sante. Questi contenitori in lega leggera agevoleranno il trasporto e la gestione della biancheria all'interno della struttura che conta 40 posti letto. L'associazione Collettivo Republic lancia un concorso sul tema del riciclo e della riqualificazione urbana con tre bandi, cortometraggi, fumetti e foto. L'associazione di promozione sociale Collettivo Republic presenta Generation Republic, un progetto rivolto ai giovani che ha come finalità quella di promuovere le tematiche della riqualificazione urbana, del riuso e del riciclo. Fino al 15 giugno, che è il termine per la presentazione delle domande, saranno attivi tre bandi di concorso fotografico per cortometraggi e un bando di concorso per fumetti. Chi può partecipare a questi bandi? I bandi sono aperti a giovani tra i 18 e i 35 anni e in funzione del tipo di bando potranno partecipare giovani residenti nel territorio della regione Marche per quello che riguarda il bando di concorso fotografico, mentre il bando di concorso fumettistico e il bando di concorso per cortometraggi saranno aperti a giovani tra i 18 e i 35 anni residenti su tutto il territorio italiano. I bandi sono pubblicati sul sito republic.it. Per l'iscrizione completamente gratuita è necessario scaricare il modulo di concorso, compilarlo e inviarlo a concorsi 2015-republic.it. Le opere migliori poi verranno premiate con un contributo in danaro. Oltre a queste iniziative numerose sono anche le attività che svolgeranno da oggi fino all'evento conclusivo che si terrà come ogni anno al Pincio di Fano. Il 4 di aprile cominceremo col dispatch work che si terrà a Pesaro, poi avremo il 19 di aprile a Pergola lo sketch crawl, quindi la giornata di disegno libero nella città di Pergola, poi avremo il mercatino dello swap party a Fossombrone, da lì ci sarà la giornata di allicat, quindi di gara ciclistica tra Fano e Pesaro, arriveremo poi al 3, 4 e 5 di luglio in cui ci sarà il Pincio Repubblico, quindi il festival che conclude il percorso di quest'anno. Ottimo risultato per la SD Dancing Time di Cartoceto che sabato scorso ha partecipato al diciottesimo concorso nazionale Miglior Coreografia. Un gruppo di tre ballerine coordinate dalla direttrice artistica Valentina Berloni ha ottenuto il secondo posto. Domani mercoledì alle 21 va in scena al Teatro della Fortuna quando la moglie è in vacanza, una commedia musicale con Massimo Ghini ed Elena Santarelli. Si tratta del penultimo appuntamento di Fano Teatro, stagione di prosa della Fondazione in collaborazione con Amat. È possibile prenotare via email all'indirizzo segreteria-teatro-della-fortuna.it-info 0721-827092. E come sempre il lunedì abbiamo la pagina dedicata al calcio e all'Alma Juventus Fano che ha vinto con un secco 4-0 l'incontro di domenica. E le squadre scendono in campo in questo preciso istante tra Alma Juventus Fano ed Ami Ternina. Alma Juventus Fano in maglia bianca. C'è Cesaroni che prova a mettere nel mezzo, interessante. Adesso Sivilla, la palla è buona. Sivilla, Sivilla! Andrea! Sivilla! E sempre lui! Al quarto minuto porta l'Alma in vantaggio. Borrelli va via. Palla sul sinistro. Borrelli mette nel mezzo. Gucci! Gucci! Nicolo! Gucci! 2-0! Toccherà Petrone per Carrato. Le urla di Ginestra. Il tocco Carrato. Palla alta sopra la traversa. Ma la barriera ha acuito il tiro. Sivilla prova la conclusione. C'è il tiro. La palla resta lì. Attenzione, rigore. Calcio di rigore per il Fano. C'è stato trattato un tocco con un braccio. Attenzione, c'è anche il cartellino. Sivilla contro Merlini. Possibilità per l'Alma di andare sul 3-0. Il fischio del direttore di gara. Parte Andrea. Sivilla e il tiro. Andrea! Sivilla! Borrelli. Borrelli. C'è Sivilla calibro. Sivilla. 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 Sivilla parla al portiere. Poi ancora Sivilla. Grande parata. Doppia parata di Merlini. Strada a Sivilla. Ora c'è Gucci in aria. Vediamo Gucci. Nicolò si gira. Gucci. Il tocco verso Sartori. Il tiro. Matteo! Sartori! C'è gloria anche per lui. Ci sembra Ciro Carrato. Casse 86. Che proprio nella gara di andata. Su punizione. fece gridare al gol. Il fischio del direttore di gara. Parte Carrato sul primo palo. Ginestra si tuffa. La palla termina oltre il fondo. Scorrono i titoli di corno. Su questa partita che l'arma sta vincendo e convincendo. 4-0. Consolidando il secondo posto. Dietro la Lepre e Maseratesi. In gol ancora una volta il due delle meraviglie. Gucci e Sivilla. In due circostanze. La seconda su unicore. E poi Sartori nel secondo tempo a mettere il suggello a questa partita. La Lepre e 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 la Lepre. Panno si chiude questa edizione di Occhio alla Notizia. Grazie per essere stati con noi. Il Tg torna domani sera alle 20.30 e domani mattina la rassegna stampa Occhio ai giornali alle 7.30. Grazie e buona serata a tutti voi.